Presentazione dei prodotti della linea Forum di FM Group Detergente per i vetri e detergente per la pulizia delle superfici in acciaio inox Il detergente per i vetri è più efficace se usato con lo spruzzatore Per montare correttamente lo spruzzatore bisogna svitare il tappo di plastica della bottiglia, forare la pellicola protettiva, inserire lo spruzzatore ed avvitarlo Per un uso corretto dei prodotti FM Group è molto importante seguire le istruzioni riportate sulla confezione Se un determinato prodotto viene usato per una superficie diversa da quella indicata, l'effetto potrebbe essere deludente Per le superfici opache, in acciaio inox, usa il detergente per la pulizia delle superfici in acciaio inox DFM Group Contiene siliconi delicati che rimuovono in maniera efficace diversi tipi di sporco, ad esempio impronte e macchie di grasso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!